Benvenuti nel canale di Sigraselover, siamo qui oggi con l'ultima linea di accendini che è stata rilasciata da Xycar, la linea Allume. La linea è composta da tre tipologie di accendini che differiscono per dimensioni, ovviamente peso e anche tipologie di fiamma. L'accendino più compatto è lo Xycar Allume, è dotato di una singola fiamma Jet Flame, il dual di una doppia fiamma Jet Flame, mentre il tabletop di una tripla fiamma Jet Flame. Questi accendini hanno una caratteristica comune che è quella di essere costruiti con il corpo completamente metallico, l'unica eccezione è la ghiera per la regolazione della potenza della fiamma nel dual, per tutto il resto sono completamente esteticamente, cioè scusate, esteriormente completamente in metallo. Non si scaldano durante l'utilizzo, la parte che diviene calda è la parte alta, quindi la parte metallica alta, che però non va a trasmettere direttamente il colore lungo il corpo dell'accendino, quindi anche nel caso di accensioni prolungate, anche di più sigari, non ci sono problemi sotto questo aspetto. Passiamo ora quindi all'analisi di ogni singolo accendino. Questo è il modello delle dimensioni più compatte, è l'Oxycar a lume, disponibile in moltissime colorazioni. Le caratteristiche quindi, come vedevo prima, ghiera nella parte inferiore, dove è presente anche la valvola per caricare i gas, nella parte posteriore finestrella per vedere il quantitativo di gas residuo, sportellino che ovviamente va a coprire l'ugello quando non utilizziamo l'accendino, quindi non permette allo sporco di entrare, e fiamma singola. Questo accendino è, a livello di dimensioni e di peso, perfetto per essere portato, messo in tasca, portato a spasso, insomma. Infatti ha un peso di soli 60 grammi, uno spessore di soli 11 mm, 33 mm di larghezza e 55 mm di altezza. Estremamente compatto e leggero. Il tutto senza rinunciare, e questa è una caratteristica che a noi è piaciuta tantissimo, è una fiamma incredibilmente precisa, ma allo stesso tempo potente. Vediamo se qui si riesce a vedere. La fiamma è veramente, veramente un qualcosa di molto potente, considerando le piccole dimensioni. L'abbiamo provato anche di sera, e la fiamma addirittura, abbiamo fatto una foto per prenderci conto, e per dare un attimo adito a tutto ciò, la fiamma aveva una lunghezza che era pari al corpo, quindi una fiamma di quasi 5 cm. Quindi un prodotto estremamente consigliato. Se si cerca un qualcosa di portatile, di leggero, ma al tempo stesso di potente. Ovviamente il serbatoio di questo accendino è un serbatoio che non è enorme, però tutto sommato siamo riusciti a accendere svariati sigari senza problemi. Il modello invece di dimensioni medie è il dual, è disponibile con delle colorazioni che non sono vaste come per il modello più compatto. In questo caso vediamo il modello stelt, come diciamo prima ghiera per il controllo, anche qui per il controllo della potenza della fiamma, valvola per caricare il gas, nella parte laterale la finestrella per vedere il livello di gas all'interno del nostro serbatoio, quindi l'autonomia. Nella parte sopra anche in questo caso abbiamo gli ugelli, in questo caso i due ugelli, che sono protetti da uno sportellino e come dicevamo quindi è munito di una doppia fiamma jet flame. Accendino che tutto sommato è leggero, 85 grammi, dimensioni, lo spessore è di 1,5 cm, l'altezza è, scusate, la larghezza è di 4 cm e l'altezza di 5,8 cm. Un prodotto anche questo che non ha problemi né di peso né di dimensioni, quindi può essere facilmente portato a spasso, è grande come la stragrande maggior parte degli accendini che si trovano in commercio, quindi entra direttamente nel settore, diciamo chiamiamolo così, standard. Il terzo accendino invece è sicuramente una sorta di colosso, come potete vedere ha delle dimensioni incredibilmente notevoli. Siamo di fronte a un accendino massiccio, molto solido, il peso è di 182 grammi, 2 cm di spessore, 6 cm di larghezza e attenzione 9 cm di altezza. Quindi un accendino mastodontico, un accendino da tavolo, tabletop infatti, con una potenza di fuoco che è veramente qualcosa di incredibile. È dotato di una tripla fiamma jet flame e bisogna stare veramente attenti perché durante l'accessione del siro, proprio perché la fiamma è incredibilmente potente. Vediamo se con uno sfondo nero possiamo vedere la fiamma. Guardate che lunghezza di fiamma, potenza, ma al tempo stesso comunque precisione. Un prodotto che è sicuramente molto valido se ovviamente stiamo cercando qualcosa da tenere a casa. Manca, come diciamo prima, la finestrella per il gas, proprio perché comunque essendo visto come prodotto da casa, l'autonomia non è una cosa così fondamentale come nel caso degli accendini portatili. Un accendino che dà veramente una sensazione di grande solidità e per quanto riguarda soprattutto l'accensione di sigari dal sepo generoso, quindi delle dimensioni generose, con questo accendino diciamo che le difficoltà di accensioni, i tempi di accensione si riducono notevolmente. Un prodotto per chi fuma prevalentemente a casa o comunque per chi vuole un qualcosa da utilizzare, quasi esclusivamente a casa. Linea X-Hiker decisamente prodotta, accattivante a livello estetico, gli accendini hanno delle fiamme che sono potenti, funzionano decisamente bene, sono garantiti a vita come tutti i prodotti X-Hiker del resto e diciamo dimensioni per ogni gusto. Personalmente il piccoletto è quello che ha impressionato davvero molto per via della potenza, della precisione, ma al tempo stesso delle dimensioni incredibilmente compatte. Ma tutto sommato ogni singolo accendino ha le proprie caratteristiche e quindi che lo rendono più adatto diciamo in base a quello che ognuno di voi, di ognuno di noi va cercando. Quindi con la linea X-Hiker, la linea Lume di X-Hiker, da Sigler's Lover un saluto e ci vediamo prestissimo con il prossimo video. A presto!